L'inizio di Renzi con le sue manifestazioni facevano vedere in lui una persona assolutamente moderata e si notava in ogni sua affermazione la provenienza sua che era tra i giovani della democrazia cristiana. Si è bastato per crescere, si è bastato per crescere, non lo so ma guardi io non ho mai parlato male del mio competitor, mai, non si è trovato mai che la mia, anche soltanto la prima frase, si è usata per me questa tattica e mi è stata attribuita una frase, è assurda nei raggiunti della signora Merkel, una frase che io non sarei mai arrivato né a pensare né a pronunciare.